Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e con questo nuovo video comincio una sorta di nuova serie, diciamo sottoserie degli squadbuilder in cui vi porto, come mi è stato comunque richiesto, come avevo già anticipato qualche video fa, le nazionali, quindi squadre della stessa nazione, soprattutto nazionalità che più mi interessano a me, ma comunque anche quelle che richiederete voi nei commenti. Oggi cominciamo con una senegalese, perché mi è stata richiesta da alcuni di voi e comunque ero curioso di provare determinati giocatori senegalesi, quindi direi di partire subito senza perderci in chiacchiere con il portiere che è Sirigu, non è il classico portiere senegalese, però ho dovuto mettere lui perché i due centrali di difesa sono della Ligan e essendoci un solo portiere del Senegal, bronzo, che fa un po' schifo, ho deciso di mettere Sirigu, che comunque a me piace tantissimo, forse è il miglior portiere della Ligan. Quindi ci sta, statistiche veramente potentissime, vabbè nient'altro da dire. Quindi partiamo col terzino, partiamo con i senegalesi e mettiamo nazionalità, appunto, se la troviamo, Senegal. E il terzino a destra è Sissoko, Issa Sissoko se non sbaglio si chiami, sì, un ottimo terzino davvero, lui è molto veloce, abbastanza veloce. 69 di difesa va bene, 76 di fisico va bene, quello che mi è piaciuto anche su Wargate, alto-alto, attacca e difende sempre, quindi ci sta, veramente un buon terzino, 1800 crediti è un prezzo giusto. I due centrali sono, allora, a destra troviamo Sané, che è del Bordeaux, un ottimo giocatore, abbastanza veloce, velocità discreta, comunque per essere 1,92. Valore di difesa non altissimo, 76 però va bene, nel senso, non è altissimo, ripeto, però si sente comunque la sua fisicità, la sua prontezza difensiva e appunto il suo fisico di 81, veramente prorompente. Normale alto di Wargate, penso che sia un Wargate perfetto. Come del resto è perfetto anche il suo compagno Giloboji, che ha più velocità di Sané, ha lo stesso valore di difesa e è un po' più fisico, 1,93 anche lui, veloce, Wargate normale normale, va abbastanza bene, mancino quindi l'ho messo a sinistra, tra l'altro mi ha fatto pure un assist. Questa è la coppia di centrali che sostanzialmente si usava maggiormente nella Ligan appena è uscito il gioco, perché sono due giocatori molto economici, comunque abbastanza forti. Il terzino di sinistra invece è Suare, che c'è sia del Lille, se non sbaglio, che del Crystal Palace, l'ho preso del Crystal Palace, l'ho pagato 2800, prezzo che non è bassissimo, però secondo me ci sta, ha degli ottimi valori in tutte le sue caratteristiche, tranne il tiro, che per un terzino non è così importante, invece è un po' snobbato questo giocatore, secondo me per la sua velocità che è sotto gli 80, altrimenti sarebbe super utilizzato nelle Premier League, perché ha comunque degli ottimi valori anche di dribbling, quindi vi consiglio questo giocatore, almeno da provare. Centrocampo, troviamo a destra come CDC Cuyate, davvero ottimo, è veramente forte, c'è anche la sua versione da difensore centrale, ma introvabile, almeno io non l'ho trovata, un gol, un assist in 4 partite per un CDC con 58 di tiro e 58 di passaggio, credo che siano dati impressionanti, lui è veramente veloce, è veramente fisico, 1.93 pauroso, 86 di fisico, ma è davvero una roccia incredibile questo giocatore, peccato che quando deve impostare, quindi fare passaggi o è al limite tirare, fa un po' più di fatica, perché come vedete voi ha delle statistiche un po' basse, 8.000 crediti per acquistarlo, ci stanno tutti tranquillamente. Compagno di reparto, CDC di sinistra, potete usare anche Diop, ma io ho usato Guay, che stesso discorso del suo compagno, ottimo, ottime statistiche, tranne il fatto che non è velocissimo, però 70 è discreto, tiro pessimo e passaggio non il massimo, ecco definiamolo così il suo passaggio, però mi ha fatto 2 assist in 4 partite, quindi ci sta veramente tanto. E per completare il centrocamp, come CC ho utilizzato Diame, non potevo non utilizzarlo, è uno dei miei centrocampisti preferiti, perché è veramente completo, in tutto, veloce, con ottimo dribbling, peccato che non ha le 4 stelle abilità, però con un 81 veramente molto agile, molto driblomane, forte in difesa, in fisico, senza ombra di dubbio, anche alto 1.85, è un ottimo tiro anche dalla distanza, mi ha fatto un gol, forse un assist in 4 partite che l'ho utilizzato. Poi, come alla destra ho utilizzato Sogu, che è veramente Sogood, però non mi ha fatto praticamente niente, nessun gol, però devo dire che nei contropiedi è veramente forte, molto veloce, agile, salta gli avversari facilmente. L'unico suo problema qual è? Il suo workhead normale normale, quindi tende a non attaccare più di tanto, ma stare un po' più a centrocampo, sarebbe tipo un buon esterno, ecco. Però devo dire che quando prendete palla con lui e cercate di andare in avanti, ci sta, è veramente forte. Poi guardate che faccia, molto simpatica, la faccia un po' da demente ebete, però comunque sia anche lui un buon giocatore, che magari se avesse alto di workhead sarebbe decisamente più forte, però se 100 crediti per acquistarlo penso che sia un buon affare. Poi, come ala sinistra ho usato Mané, che è davvero un grande, perché a me piace davvero tanto questo giocatore, fa tanti gol, lui mi ha fatto un solo gol quando l'ho utilizzato con questa squadra, però considerando che ci sono stati due autogol, tra l'altro nella stessa partita, quando ha tirato lui dopo due bellissime azioni e quindi hanno dato l'autogol al difensore avversario, in realtà potevano dare il gol a Mané, però vabbè, comunque sia, non è che rovina più di tanto la media, è un ottimo giocatore, veloce, agilissimo, 4 stellabilità, quindi ottimo dribbling e davvero un buon tiro, finalizzazione ottima, potenza tiro discreta se non sbaglio, comunque anche nei long shot non è male e ha un buon passaggio. Mentre, per finire, l'attaccante prima punta è Diouf, ma potete usare anche Ndoie o Ba o altri giocatori senegalesi. Ho usato Diouf perché mi sono sempre trovato abbastanza bene con lui e di fatto mi sono trovato molto bene anche con questa squadra, 7 gol e 1 assist in 4 partite sono dati veramente impressionanti, quasi 2 gol a partita garantiti da questo giocatore che somiglia a 50 Cent, lui è velocissimo, con un workhead brutto, infatti è uno dei suoi lati negativi, molto alto, comunque con una discreta agilità e una buona fisicità. Il problema di questo giocatore, oltre al workrate, è secondo me la sua lentezza di esecuzione, perché quando prende spalla alla porta difficilmente riesce a girarsi, ecco diciamo che è un po' macchinoso, però come macchina da gol è veramente impressionante, come potete vedere voi da questi dati. Comunque raga, questa è la squadra senegalese, spero vi sia piaciuta, provatela, non costa neanche tanto, adesso non so quanto, però ve la cavate con non tanto. Fatemi sapere nei commenti quali nazionali volete vedere voi in futuro, facciamo magari anche qualche squadra abbastanza esotica, quindi qualche nazionalità, non troppo, come dire, non so, vabbè, qualche nazionalità strana che volete voi, iscrivetevi nei commenti, lasciate un bel like, come sempre, 300 mi piace uscirà un nuovo video, e iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link in descrizione, adesso vi lascio il clip, ci vediamo al prossimo video, bella raga! Ciao!